Le elezioni amministrative della prossima primavera per la scelta del sindaco di Cuneo mettono a dura prova la tenuta della coalizione del centro-sinistra in provincia Granda. Dopo le primarie per le amministrative di maggio, vinte dal candidato della sinistra radicale Gigi Garelli, sul panorama politico si impone uno schieramento più che mai diviso. La coalizione Cuneo-Solidale, guidata dal sindaco uscente Alberto Valmaggia, non ha condiviso la scelta del PD di sostenere Garelli e ha deciso di presentare un proprio candidato che sarà Federico Borgna, 38 anni, presidente regionale dell'Unione Italiana Cecchi del Piemonte. Borgna sarà sostenuto anche da altre liste civiche e dall'Udc. Un volto e un nome che si posiziona tra gli altri candidati finora ufficializzati. Il leghista Claudio Sacchetto, attuale assessore regionale all'agricoltura del Piemonte, Mario Castellino per Futuro e Libertà e Felice Lauria per la destra. Per i prossimi giorni è attesa la decisione del candidato del PDL.